Ciao homebrewers bentornati a una nuova puntata di Fortify News. Fortify News nasce con l'idea di essere un vlog dove appunto vi, come dice il nome, vi aggiorno, vi do le notizie, le novità, gli aggiornamenti sulla mia attività di homebrewer, quindi nel mio birrificio virtuale casalingo che ho chiamato Route Fortify Homebrewery. Poi alla fine va sempre a finire che parlo di mille altre cose sempre riguardanti il mondo della birra fatta in casa, della birra artigianale, anche perché se parlassi solamente di quello che faccio io probabilmente uscirebbero quattro video all'anno invece che essere un appuntamento più o meno settimanale diventerebbe trimestrale, non lo so, perché alla fine non è che faccio chissà quali grandi cose. Ecco, oggi comunque voglio tornare a questo spirito iniziale e aggiornarvi proprio su quello che sto facendo lasciando da parte un attimo altri discorsi. non lo farò comunque a bocca asciutta anche stavolta perché ho qui un'altra birretta da assaggiare oggi gentilmente offerta da Lorenzo, una birra stranamente senza etichetta e della quale so solamente che si tratta di un'apa e quindi sono molto impaziente di assaggiare. eccola qua un po' di fondo lo lasciamo indietro, la birra è bella chiara, non limpidissima, schiuma meravigliosa bella cremosa e persistente ottimi profumi fruttatissimi tipici americani la lasciamogli un attimo e veniamo noi riprendiamo un attimo il discorso se vi va dall'inizio dell'anno, dall'inizio della stagione ho qui le schede delle cotte che ho fatto, un giorno vi parlerò anche di queste schede allora, prima cotta della stagione, fatta a ottobre, era la Thor, di questa ve ne ho già parlato la mia Belgian Blonde Ale è venuta non perfetta, nel senso non era proprio come doveva essere ma comunque è venuta buona, senza particolari difetti, quindi promossa la seconda era la Silver Surfer che è finita nel lavandino, anche quella ve ne ho già parlato la terza era la Super Chook, la Belgian Dark Strong Ale che sinceramente non ho ancora assaggiato, questa è in bottiglia già da tre mesi quindi sarebbe assolutamente ora di assaggiarla però, sì, probabilmente l'assaggerò poi nei prossimi giorni però sto ancora finendo le ultime una o due bottiglie di quella dell'anno precedente quindi la sto lasciando un attimo da parte quindi questa la lasciamo in sospeso quarta cotta, quella di gennaio ho fatto la mia Super Classica Capitano America American Amber Ale questa l'ho assaggiata sì, direi che è venuta bene anche questa non ci sono difetti mi piace ho fatto più o meno la stessa ricetta di sempre variazioni minime comunque di questa sono soddisfatto non resisto più e quindi devo assaggiare questa apa profumi dove domina come vi dicevo il fruttato si sente anche un po' il malto però principalmente fruttato, un po' di agrumato, un po' di frutta gialla aromi di questo tipo, forse anche di frutta rossa azzarderei assaggiamo la salute beh, davvero niente male rimane, rimane abbastanza beverina adesso non so quanti, quanti gradi abbia però mi sembra una gradazione media non particolarmente spinta molto luppolata però amaro, medio, non eccessivo quindi va bene la carbonazione ok corpo, un corpo medio anche questo in bocca agli aromi che sento di più sono appunto l'agrumato, una punta di resinoso anche, adesso non so di preciso che lupoli abbia usato Lorenzo mi piace perché pur essendo molto luppolata non dà quella astringenza da lupolatura eccessiva che a me dà un po' fastidio che riscontro spesso in queste birre soprattutto quelle fatte con dry hopping abbastanza spinto so che Lorenzo in generale è un cultore del dry hopping ecco, questa rimane comunque priva di questo problema se non proprio una cosa minima che comunque ci può stare decisamente è una birra molto buona e ben riuscita allora andiamo avanti con il nostro discorso abbiamo visto le prime quattro poi ho fatto a febbraio la Cocko Bill che è una Golden Ale fatta con l'upolo Galaxy esclusivamente anche questa l'ho assaggiata ho fatto un primo assaggio proprio una bottigliettina l'ultima che avevo riempito col fondo del fermentatore e allora è buona quella che avevo fatto l'anno scorso era molto buona era rimasta un filo dolce quindi quest'anno l'ho aumentato leggermente le Ibu mi è sembrata adesso quasi fin troppo amara in realtà l'avevo aumentata veramente di poco il problema è che questa bottiglietta che ho aperto presentava un problema di gushing non da fare la fontana però schiuma lenta che usciva dalla bottiglia c'è sempre la speranza che fosse una bottiglietta sfigata appunto magari riempita un po' col fondo è rimasto un po' di sporco magari 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 vedremo adesso quando ne aprirò qualcun'altra io sono sempre ottimista ma non mi è mai capitato sinceramente che fosse una bottiglia sfigata la prima che ho aperto e poi le altre perfette comunque speriamo bene a parte quel difetto comunque la birra era buona ecco questa punta di amaro forse forse stavolta eccessiva però ancora tollerabile poi ho fatto a marzo la mia Smoked Robust Porter The Punisher versione 2.0 perché qui ho fatto un paio di piccole piccole modifiche rispetto all'anno precedente la cotta sembra essere andata tutta bene tutto bene non l'ho ancora assaggiata questa perché l'ho imbottigliata a fine marzo quindi ancora presto e su questa vi aggiornerò anche questa più avanti così come vi aggiornerò sulla settima cotta che ho fatto domenica scorsa praticamente settima cotta della stagione nonché settantesima cotta da quando ho iniziato a fare birra che è la... ho fatto la Zagor la Zagor che è un American Wheat quindi una birra di frumento in stile americano quindi fatta con lievito neutro lupoli americani ovviamente e... beh, questa ovviamente l'ho appena fatta la cotta è andata benino ho avuto soltanto una OG di qualche punto più bassa del previsto ma a parte quello sembra andato essere andato tutto ok e... vedremo poi anche qui ho fatto una piccola variazione sulla ricetta originale che avevo fatto già altre volte questa è una birra che era fatta tradizionalmente solo con l'uppolo cascade mentre quest'anno ho messo anche un pizzichino di galaxy al flame off insieme al cascade vediamo cosa viene fuori avevo un po' di galaxy che mi avanzava e niente quindi a questo punto resterebbe solamente una ultima cotta da fare a maggio che non è sicuro che la faccia sarebbe l'alanford la solita birra che faccio a fine stagione con gli avanzi quello che mi è rimasto in casa il problema oltre a quello delle temperature che potrebbero salire un po' troppo nelle prossime settimane quindi diventare un po' eccessive per avere una buona fermentazione il problema è che di avanzi ne ho pochi soprattutto per quanto riguarda molti base ho poca roba in casa e non so se mi basterà per tirarci fuori una birra decente ecco a meno che non faccio una birra da due gradi e quindi non lo so questa l'ottava cotta al momento rimane rimane un po' in forse e questo è tutto la situazione al momento è questa appunto vi aggiornerò un po' più avanti con gli assaggi delle ultime cotte e quindi per oggi ringrazio chi è rimasto a guardare il video fino a questo punto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti grazie a tutti